Se si vuole fare qualsiasi cosa nel mondo del web 3.0 non si può non passare per Metamask il portafoglio di criptovalute compatibili con la Ethereum Virtual Machine più utilizzato al mondo Se non vi fosse chiaro, nelle blockchain e VM compatibili abbiamo Ethereum, Polygon, BNB Smart Chain e tutte queste altre che vi sto lasciando a schermo Per utilizzare Metamask dobbiamo aggiungere la sua estensione al nostro browser browser che si deve basare su Chromium quindi va bene Google Chrome o magari anche Brave Browser che di solito utilizzo io Qui sotto in descrizione vi lascio il link per scaricare Metamask Una volta arrivati in questa schermata dovete semplicemente cliccare su aggiungi Adesso clicchiamo su aggiungi estensione E' tempo che l'estensione venga scaricata correttamente che ci si aprirà questa schermata Da qui possiamo cliccare su create a new wallet oppure import an existing wallet Ovviamente però essendo questa una guida essendo voi su un video guida Io penso che voi Metamask non l'abbiate ancora e quindi clicchiamo su create a new wallet Accettiamo queste informazioni e qui dobbiamo decidere la password del nostro Metamask Una volta decisa la password clicchiamo su I understand e poi crea un nuovo portafoglio Adesso io potrei andare avanti cliccando su remind me later però così non potrei salvare le mie parole seed Questo non è raccomandato da Metamask ma in generale non è raccomandato da nessuno Infatti la cosa più sicura da fare è cliccare qui su secure my wallet così che ci faccia vedere le nostre parole seed Mi raccomando io ora le sto facendo vedere perché questo è un wallet che non userò mai ma voi dovete salvare le vostre parole seed in modo che nessun altro oltre voi possa accedervi perché se qualcuno dovesse inserire le stesse parole chiave che voi avete appena generato potrà avere accesso a tutto il vostro wallet e quindi a tutti i soldi che avete all'interno Una volta salvate clicchiamo su avanti e in questa schermata ci chiederà di inserire alcune delle parole chiavi così da vedere che le abbiamo salvate correttamente Ad esempio io nel posto 3 avevo la parola gorilla nel 4 maple e nell'8 undo Una volta inserite vedo che questo pulsante conferma si attiva e una volta cliccato eccolo qui wallet creation successful Clicco su got it e vado avanti Posso anche chiudere questa finestra di Metamask perché la versione più piccola è molto più comoda e per accedere alla versione piccola basterà andare qui sulle estensioni poi volendo anche aggiungere il pinning così che Metamask ci appaia direttamente qui fuori e una volta cliccato ecco qui che si apre Metamask Questa è la schermata principale da qui potrete fare davvero di tutto Per prima cosa però vediamo come aggiungere delle nuove blockchain a Metamask perché tutto quello che dirò dopo funziona sia con la rete Ethereum ma anche con tutte le altre blockchain supportate da Metamask e per aggiungerle basterà cliccare qui dove c'è rete Ethereum principale aggiungirete e ci si aprirà questa schermata con tutta una serie di blockchain supportate da Metamask ma in realtà non sono nemmeno solo queste potreste anche aggiungerne altre a mano però per farla semplice vediamo come si aggiungono queste blockchain che ci vengono proposte ad esempio Polygon Mainnet clicchiamo su aggiungi approva switch to Polygon Mainnet e poi Gotit ecco qui che sul nostro Metamask oltre alla rete Ethereum principale c'è anche la Polygon Mainnet e così vale anche per tutte le altre blockchain vediamo ad esempio BNB Smart Chain clicchiamo su aggiungi approva switch to BNB e Gotit ecco qui che anche la BNB Smart Chain è stata aggiunta al nostro Metamask ok però adesso che avete il vostro account di Metamask volete anche magari ricevere dei fondi quindi io chiudo questa schermata perché per me è scomoda e la riapro in forma più piccola se vogliamo ricevere dei fondi sul nostro account basterà cliccare qui dove c'è account 1 e sotto un indirizzo e fare copia negli appunti infatti se adesso io andassi qui sotto e facessi ctrl v ecco che questo è il mio indirizzo di criptovalute quindi potrei passarlo a chiunque e farmi passare delle cripto invece per inviare le criptovalute basterà cliccare qui su invia adesso però ci chiede di inserire un address ed essendo che noi non abbiamo uno andiamo qui dove c'è questo pallino e facciamo su crea account lo chiamiamo va bene account 2 così che all'interno dello stesso Metamask voi possiate avere più account ecco qui account 1 e account 2 quindi i vostri account sono separati gli uni dagli altri però se mai voi doveste reimportare le vostre parole seed riavrete accesso a tutti gli account che ci sono all'interno di un singolo Metamask e adesso che abbiamo due account vado su account 2 e copio negli appunti il suo indirizzo adesso torno su account 1 vado su invia e qui faccio ctrl v dell'indirizzo ecco che qui sotto mi dà errore perché effettivamente io non ho niente su questi account però se voi qui inseriste l'importo che volete mandare e poi qui sotto cliccaste su avanti vedrete semplicemente i vostri fondi passare da un account a un altro per farvi vedere invece come eseguire una transazione vi farò l'esempio con la mia collezione NFT ad esempio qui sul mio sito clicco su un mint ed ecco che ci troviamo nella minting d'app della mia collezione NFT qui sotto clicco su connect wallet ed ecco che ci si apre un pop up posso decidere con quale wallet collegarmi facciamo che mi collego con l'account 1 e clicco su avanti poi su connetti e adesso che la connessione è stata stabilita vediamo come la schermata è cambiata perché ci fa vedere delle statistiche come il mio wallet address la supply il fatto che la vendita è aperta e quanto costa un singolo NFT infatti si non costa niente perché i primi 1000 NFT della mia collezione sono gratis quindi tra l'altro se volete provare potete farlo tranquillamente cliccando poi qui sotto su un mint mi apparirà una transazione vediamo come io ho detto che sono gratis però qui c'è un 4,67 questo perché? perché 4,67 euro sono il costo delle gas fees un costo che tra l'altro non arriva a me ma va pagato semplicemente ai miners che nella rete stanno per validare questa transazione e che tra l'altro è un costo che c'è a prescindere sia che un NFT è gratis sia che a pagamento ma in generale per qualsiasi transazione che voi effettuaste sulla blockchain tutte quelle informazioni che richiedono una modifica di dati sulla blockchain richiedono un costo di gas fees in base a quanto questa modifica è onerosa per la rete e poi se volessimo procedere basterà andare qui sotto e cliccare su conferma tra l'altro piccola tips in altri momenti della giornata come ad esempio la mattina magari il costo delle gas fees è davvero davvero più basso e a volte arriva anche a 1-2 dollari quindi se volete prendere gratuitamente un NFT della mia collezione supportereste il mio canale e costerà semplicemente 1 o 2 euro di gas fees però adesso ci siamo collegati ad un sito web quindi anche se questo è il mio ma in generale con qualsiasi sito web se voi voleste scollegare il vostro account di Metamask da questo sito web basterà accedere a Metamask andare sull'account che è collegato vediamo che qui c'è scritto connesso mentre se andasse sull'account 2 c'è scritto non connesso ma noi torniamo di nuovo sull'account 1 clicchiamo su questi tre puntini siti connessi e poi disconnetti dal sito in questione qui ce ne potrebbero essere molti altri in base a se avete connesso il vostro account a più siti web ma in questo caso ce n'è solo uno e io clicco su disconnetti poi di nuovo disconnetti ed ecco come riappare di nuovo il pulsante Connect Wallet invece della schermata di prima e ovviamente se io cliccassi di nuovamente su Connect potrei collegare nuovamente il mio wallet a questo sito web adesso fate finta di aver comprato più NFT di una o più collezioni e voleste effettivamente vederli beh da Metamask Mobile si potrebbe fare mentre su Metamask Desktop quindi l'estensione del browser non c'è nessuna funzione che ci permette di vedere i nostri NFT però se voleste vederli potreste semplicemente tornare sul mio sito web invece che Mint cliccare su Gallery ci si aprirà questa schermata dove ci chiederà di connettere il wallet infatti connettere il wallet è fondamentale per vedere quale NFT sono posseduti da quel preciso wallet e una volta cliccato su avanti poi connetti qui appariranno tutti gli NFT in questo caso non c'è niente perché effettivamente quest'account non possede nulla è appena stato creato ma io vi lascerò adesso uno screenshot su come apparirà il sito in caso voi possediate degli NFT in questo caso il mio un'altra cosa che possiamo fare con Metamask è scambiare delle criptovalute quindi vediamo come tornando qui in patrimonio io ho messo Ethereum e USDT anche se nessuna delle due criptovalute ha effettivamente un valore qui perché non ce n'è nemmeno un po' però cliccando qui su scambia io potrei effettuare uno scambio ad esempio tra Ethereum e qui sotto eccolo qui USDT anche viceversa volendo però come ho già detto qui sull'account non c'è niente quindi questo scambio non si può fare ma se voi aveste facciamo esempio 10 USDT qui potreste inserire il valore 10 e poi qui sotto cliccare su verifica scambio vediamo come non è 10 ma è 10 e 24 sempre per quelle gas fees che ho detto prima clicchiamo su verifica scambio e poi sicuramente a me darà errore infatti non fa più andare avanti non si illumina questo pulsante perché sull'account non ho niente adesso facciamo finta che voi abbiate mintato un mio NFT come vi ho fatto vedere prima ecco potreste vedere quella transazione qui in attività infatti qui non c'è niente perché con questo account non sono state fatte transazioni che hanno richiesto un costo in gas fees ma se voi doveste sostenere una di queste transazioni come ad esempio inviare delle criptovalute o mintare un NFT qui in attività vedreste quella transazione e anche quanto vi sono costate le gas fees ed anche per questo video è tutto io spero che questa guida sul come utilizzare Metamask vi sia stata utile e lasciate like iscrivetevi al canale ed attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video sempre sul mondo degli NFT e del web 3.0 noi ci vediamo alla prossima ciao ciao